Ciao, ciao, ho saputo di tuo fratello. Era prevedibile. Gli stronzi rimangono stronzi. Quindi voi vi conoscevate bene? Sì. Da quanto? Ricordi il tipo della sigaretta? Lui? Ma cazzo. Ma perché non me l'hai detto prima? Perché avrei dovuto, scusa? Perché è mio fratello. Non sembrate tanto fratello. Eh, appunto. E quanto siete stati insieme? Non lo so, non mi ricordo. Due, tre mesi, eravamo bambini. Ha così importanza? No, non ne ha. Non me ne frega un cazzo. Beh, non si direbbe. E poi scusa, ora come ora io e i tuoi fratelli. Non ha senso. E perché scusa? Elia, a tuo fratello non piacciono le donne. No? No. Comunque, non è questo il punto. E qual è allora? Lo dicevo io. Siete sempre così indecisi voi maschi. Grazie. Come dicevo io. Ciao. 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 Ciao.